La crisi climatica potrebbe causare 14,5 milioni di morti entro il 2050, lo sostiene un'analisi del World Economic Forum secondo cui i disastri naturali aggravati dal clima potrebbero portare anche a perdite economiche per 12,5 trilioni di dollari. Sono inoltre segnalati costi aggiuntivi per il sistema sanitario pari a oltre 1000 milioni di dollari. Il report aggiunge che la crisi climatica aggraverà le disuguaglianze sanitarie globali lasciando i più vulnerabili maggiormente a rischio. Grazie